30.000 mi piace faremo una partita a calcetto Elitz versus Stardust Oggi ragazzi siamo qui nel nuovo coro della scuola Cominciamo bene ragazzi siamo in Villa Elitz Oggi ragazzi oltre ad avere Elitz in Villa Elitz abbiamo i mitici e lei Luca e Andrea Andrea e Luca in realtà però Luca e Andrea Ragazzi li voglio sponsorizzare perché mi hanno pagato iscrivetevi tutti al loro canale Perché comunque usciranno delle challenge anche sul nostro canale Quindi non solo forti su TikTok ma anche su YouTube e ci ruberanno il posto di lavoro OLE Oggi rigori challenge vi spiego tra poco le regole in piscina quindi sarà una bella sfida Carichi carichi Lasciate tanti mi piace andiamo dentro Con il video BRAVI Partiremo dai quarti di finale visto che siamo 8 1 contro 1 Ragazzi dovrete fare tre tiri consecutivi Chi segna più rigori andrà a vincere questa challenge andrà direttamente in semifinale Quindi eliminazione diretta Chi vuole partire prima per parare decidete voi Quali dispari? Vai pari Dispari Eeeh Ok vai Bimbo Fate così Fa me te, io Gillo te Fate a is Io E' il napoletanese o Fate a is Gillo 1,2,3 qua No pare il suo No pare il mio Pare il suo Pare il suo Fa niente vabbè parte quindi prima lo importa Lo importa Ok Luca Luca Questi per la porta Oh Qua il budget aumenta in Villelizze Mamma mia Sul tuo di polvere sti qua Quindi eri tre tiri consecutivi e poi viceversa Ok Vai vai cominciamo Primo quarto di finale Henry contro Luca Campolunghi Vediamo Andiamo Primo tiro Oh Imparato Adonno che cazzo l'ha messo Bravo Bravo Henry Primo tiro a segno per Henry Era il secondo Secondo Henry Oh C'era però eh Terzo tiro Tiro di Enrico Che potrebbe mettere il secondo Uno su tre Uno solo Henry eh Male male Piacere ragazzi Sono Luca Tiktoker Non ballerino Sono qui su Youtube Per far capire agli elizio Che è finita la loro Ma sta zitto Enrico Enrico Cagliaccio Non è buone questo Primo tiro Let's go Il piede d'appoggio qua vola Eh occhio eh Stocca il capello Tira Fuori Allora non pareggia L'ultimo tiro di Luca Potrebbe solo pareggiare Oppure soccombere Al vantaggio di Henry Lazza Incredibile Incredibile Henry Lazza Ma è il bignone Ciao Sei un grande portiere Ciao E un mito Ciao E basta me l'ha preso lo stesso Ciao Ciao Tatino contro Fuse Gamer Carlotta è per te Piccola dedica Partita di col destro Subito E già pennello Non è mai fatto un gol del genere Non mi ha postato a Carlotta Ma che Adesso è il turno di Angelica Capite Un sacco di ragazze Qui dedica il gol da Tino Vediamo se questa volta va Palla Ha provato a pennellare Vai 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 Cadevi Sì Perché Prima ha portato bene Parte dati con il destro Ed è fuori Stavo scivolando Ma you Stai ti ha fatto un gol Per qualificarmi Odo Pareggiare Poi andiamo all'oltranza Oppure ne hai fatto due Parte Fuse Gamer Il pallonetto Vai 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 Juventino Dai che ti pareggia Addirittura Vinco E pareggia subito i conti 1-1 Io non ho bisogno di dedicare alle ragazze I gol Io lo faccio per me stesso Bravo Andre Tati guarda che se segna Hai perso eh Non ti voglio mettere pressione Però hai perso se segna Ma lo metto a Tadino Ho fatto Eh ma perché mi sono buttato prima Ho sbagliato i tempi Va chiuso con il secondo tiro Sempre con il destro Palla che bacia il palo E finisce fuori Porco diavolo Porca miseria Ragazzi ultimo tiro decisivo Tati sei pronto? A perdere Può andare in semifinale con questo tiro Vedremo se la mette dentro Lorenzo Fusco 3-2-1 Fuori dati Fatto un gran gol Io mi sono disteso tu Altro quarto di finale Abbiamo Omar Amun Contro Andrea Fratino Porta Ricordati in che versione sei Ecco esatto Parte Omar Secondo rigore Partenza la Ronaldinho Che merda Che merda da parte tua Sun Prime Attenzione a mister Carica il suo amico Dai Omar che ultimamente Sta passando un periodo difficile Della sua vita Perché dovete sapere che È morto il coniglio Quindi parte col destro Andrea Fratino Si distende Perché mi sono spaccato la pancia Aspetta un attimo Ragazzi Andrea Fratino Già ruba Anche perché l'Inter Quest'anno Vabbè Non voglio dir nulla Posso Vai vai poi Se segna Va avanti Ok Fratino Diraccio Un diraccio Non aspetta ancora Ecco Ecco il linguine Che inizia a fermare Secondo tiro da parte di Andrea Che calcola La velocità del vento Parte Andrea Non ci credo È gol Il VAR che dice Secondo me è gol No 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 È palo Ha preso No 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 Non è gol Ref Ultimo di la parte di Fratino Che calcola di nuovo il vento E deve mettere la vento Per passare E la fa Io ne ho bastato uno Ti ho spiazzato Che sei rimasto immobile Come una statua È domenica per tutti Non ti preoccupare L'obiettivo del video Per me è sempre Non farmi male In questo caso Non cadere Però se riesco a segnare Magari è meglio Pronto Mirko Vediamo mister Mancino Mamma mia Bello questo Vi è piaciuto il giro? Il giro L'effetto Che gol Mirko Fiede di gol Credici E non solo questo Allora Puoi essere il primo A fare due gole? Non li farò Allora mister Un altro Mamma mia A voi Mi fanno Hashtag Nei commenti Mirko Marotta Mirko Marotta Mirko anche questo è gol Come quello di prima Uguale Stessa mosca Stessa tutto Anto 3 su 3 Per il tuo prime Sì Anto Per il prime Una vorrei pararla Vai Vabbè una Ha detto che voleva pararla L'ho sbagliata apposta Vai Mirko Vedi se riesci a fare meglio Tanto ormai Ho già perso Quindi Posso anche tirare a cazzo Allora Mirko Se sbagli Sei fuori automaticamente Capitami Grazie a me Parte lo stesso Sì Anto Però se scendeva Sì Anto Torteggio per le semifinali Onesto Clean Chiarissimo Pronti Anto Buttiamo Le giù Allora Antonio Il primo Il primo Ok Vabbè facciamo Buttiamo Le giù Io fratino Io Antonio Ma ci sta Let's go Andrea Donnarumma Al massimo Raffaeil Cabral Vabbè non potevo dirmi resti Meretto non ne farà uno Ah Quindi già Primo dissing Tra i due semifinalisti Andrea Dalla parte del tiro Posso primo tentativo Se va fuori Dai però fammi impegnare un po' Vabbè al prossimo Ti faccio impegnare Facevo prima a stare lassù Sei bagnato inutilmente Henry ci vediamo in finale Ci vediamo in finale Ah ok Anto che dici C'è qua Eh no no Andrea Cosa è un po' di sbeffeggiamento Andre Fallo fuori a Cristo Ma chi è Secondo tiro raga Mi ha fatto arrabbiare Quindi sbaglia adesso Guarda Agito Andrea Come si Andrea Nascio Andrea Eh Sbagliato Andrea Andrea E' questa qui Terzo tentativo Tra l'inonia Più totale Lo sbagli Anche questo Fusegamer Andrea Ormai seduto E prova a schiavare un'altra Anche se fai zero pass Capo Però sta facendo balletti Per tiktok E quindi signori Se Andrea Fa solo un gol Al primo tiro E' già finita questa prima semifinale Prego Andrea Mi scalda un po' di show E fratino E la mette subito dietro Guarda dietro Perché dietro di lui Non c'è più nessuno Signori Vincerò per voi Ma ho segnato veramente? Ho segnato? Spera Bene Seconda semifinale Enrico Lazzarato Contro Mist Anto Vuoi portire io O vuoi portire te a calciare? Vado prima io a parare Quindi Carica al destro E rilancia No 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 smart challenge Ha sbagliato Ha sbagliato Ha sbagliato So Era imparabile Quella messa di Enrico Preparò al secondo shot Eccolo Parti col destro E sbaglia Vola mister Ma nulla da fare Non ci avrei gustato Calma Calma Annusa la finale mister Col suo mancino fatato Ultimo Tentativo per Eri Lazzar Disegnerà Una minima speranza Se sbaglierà E poi Eri Lazzar Che gol Allora Vede la luce Vede la luce Forse Perché tocca a mister Mister è pronto Col mancino Alla Messi O forse alla Maradona Parte col mancino Rischia Di far spaccare la testa E' andata E' sbagliato Pronto Mister col mancino Eccolo Troppo Troppo mancino Mi sembra che esce Col pallone di Andrea Trocca a mister Col mancino Per pareciare i conti Parte col mancino Magnan Detto anche rilazza Detto anche in finale Let's go Visto che hai già i guanti Parto io a calciare E quindi dopo avermi battuto Eri vola in finale Con Andrea Che calcola sempre il vento Finalissima tra i due Prego Per questa finale Proprio in mente Verso Harry Parte Sempre col destro Alla fuori Obbligato 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 Ma confido Nelle mie doti Da portiere Signori Harry Se ne fa due Ovviamente Vincerà anche Questa challenge Andando bisogna prendere la porta Vediamo Vai ragazzo Sono qui che ti aspetto Abbiamo un grande Andrea Pratino Bello carico per oggi Che gol Che gol Se fa questo secondo me Gol Automaticamente Vince Questa Summer Cup E Leeds Penalti Challenge Andrea forse vuole spostare la porta Vuole metterla a terra Non so Parte Col destro Alla fuori Cazzo E siamo vivi signori Terzo tiro Per il nostro amico Veneziano Dalla provincia di Mestre E ancora Harry Oddio L'ha emulato L'ha copiato Ma vediamo Se copierà anche i suoi diri sbagliati O forse no Parte Harry Palla fuori E andiamo E andiamo Quindi ci sarà E adesso tremi Enrico Tremi Tranquillissimo Sono Io ho agio Quindi ragazzi faremo uno spareggio Primo che segna vince Il primo che segna vince Sì dai Ad oltranza diciamo Se la sfonda E la parte col destro Cos'ho parato Che sfortuna Parte Rilazza Con il destro Per chiuderla Non ci credo E allora E allora Un mostro Un mostro Stavo già risultando E allora Anderra Fratino Ha un importante pallone Tra i piedi Il rigore forse decisivo Questa grande challenge Parte Fratino Calma Obbligato Obbligato Perché Attenzione Con quel dito vorrà parare E allora Harry Molto arrabbiato Perché ha subito Un duro colpo Andrea si prepara Senza i guanti Andremo a vedere E ci sarà un'altra parata Come prima Parte Harry E ha Fratino Vince Vince Fratino E allora Questo dito Fa miracoli Stringimi il dito Ho un grande campione Gran match Mi è piaciuto questo Bella partita ragazzi Quindi ragazzi Per un prossimo video Con Yei Lei Lasciate almeno Facciamo 30.000 mi piace 30.000 Per altri challenge Il genere In piscina Con il calcio E che ti rilasciate Un bel mi piace Per commento Iscriviti al canale Noi ci rivecchiamo Nel prossimo video Bene ragazzi Se capite Ciao 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 Grazie per la visione!